Ciao, oggi è il 31 di maggio, volevo analizzare con voi alcuni aspetti tecnici. Oggi voglio parlare del mal dell'esca, anche se siamo in fase precoce come di solito siamo abituati a parlarne o a vederla, quest'anno la sintomatologia è di nuovo presente già dai primi periodi primaverili. Questa dietro di me è una pianta di timorasso che ha circa 22-21 anni e siamo nei colli tortonesi quindi in Piemonte e volevo farvi vedere sia la sintomatologia e le scelte che sono state fatte per poter rispondere a quella che è una delle più gravi malattie a livello mondiale, quindi una scelta di prova perché non è quella ideale, però perlomeno ha dato la conferma e la consapevolezza delle cose che non vanno o non andrebbero fatte. Intanto vedete comunque la pianta si mostra vigorosa e anche con una buona fertilità produttiva, siamo a fine fioritura, ma se mi avvicino iniziate a vedere quelle che sono le sintomatologie classiche dell'esca su foglia, un'altra e quello che vi voglio far vedere è la scelta che è stata fatta di prova su questa pianta, intanto con la motosega ero passata a vedere come stavano le piante e vedete che, scusate un attimino, vedete come l'esca era presente già era presente nelle parti diciamo più alte della pianta, questo era ancora legno buono, queste sono delle necrosi e questo è invece il fungo del complesso dell'esca. Allora in questo caso la scelta è stata quella di riallevare dal basso, quindi un tralcio, un pollone che è stato poi a sua volta ramificato, vedete di spero nel guio, ma ha manifestato nuovamente i sintomi dell'esca come vi accennavo in precedenza, quindi come molte volte vi diciamo, riallevare un pollone non è la soluzione ideale, qui non siamo neanche nella parte più bassa del ceppo, ma come abbiamo visto con l'attività di dendochirurgia, molte volte l'esca si espande fino alle porzioni più profonde del legno. Inoltre non andando a eliminare le porzioni con l'esca non andiamo poi a ripulire la pianta e quindi queste si rinfettano sicuramente. Quindi in conclusione la risposta che ci viene data da questo tipo di scelta è di non fare dei riallevamenti senza poter indagare bene interno o fare anche delle pulizie di dendochirurgia, perché le nuove piante in ogni caso come vedete qua si riammalano con notevoli danni alla produzione e all'economia aziendale.